Parliamo un po' della situazione scommessa, sì ragazzi, che belle notizie in un periodo in cui sembrava che fosse tutto tranquillo e invece no, sta succedendo il delirio. Allora, premessa importante, è una chiacchierata ragazzi, prendetela come una chiacchierata come se fossimo al bar, quindi minchiate se ne possono dire perché è una situazione talmente intricata, talmente in evoluzione, che, ripeto, ne voglio chiacchierare proprio perché in tanti state chiedendo, discutiamone, parliamone, uno spazio per discutere un po'. Allora, a quanto pare c'è un giro di calciatori abituati a far scommesse, cosa che non si potrebbe fa, ok? Quindi è un po' una storia vecchia che ogni tot anni ritorna e ritorna. Allora, per il momento, a quanto pare, i giocatori coinvolti, quelli noti, so due, Zaniolo e Tonali. Al punto che sono stati allontanati dal ritiro della Nazionale, adesso toccherà vedere che cosa accadrà. Nelle ultime ore è uscito un altro nome, quello di Zaleski, ma a quanto pare la situazione è molto più diffusa, molto più stratificata, molto più complessa di quanto non sembrasse all'inizio. E in questo momento è difficile immaginare cosa potrebbe accadere. Cioè, prima di tutto, bisognerà comprendere quanto effettivamente è grossa sta storia. Quanti sono i giocatori effettivamente coinvolti. Una volta fatto quello, bisognerà capire se il vizietto si è limitato a essere un vizietto o ha portato all'alterazione dei risultati. Che è la cosa che a me terrorizza. Terrorizza, ragazzi. Cioè, a me queste cose mi terrorizzano. Perché chiaramente adesso se sta leggendo la qualunque, allora c'è questo coinvolto, avete ricordi l'episodio d'Otto è successo X? Non ne usciamo, ragazzi. Adesso per due mesi si parlerà d'altro. Preparatevi, si parlerà d'altro. A me preoccupa proprio il principio dell'alterazione dei risultati a fini personali. Allora, io non voglio entrare nel merito delle questioni specifiche perché non se ne sa una fava in questo momento. Ci sono gli inquirenti al lavoro, a quanto pare è molto molto delicata la questione perché non vorrei addentrarmi in territori pericolosi, o meglio pericolosi poi, nel senso in minchiate. Ecco, non voglio addentrarmi in minchiate per contribuire all'inevitabile disinformazione che si farà a riguardo. Però posso dire che da tifoso sono un po' preoccupato. Sono un po' preoccupato e certe domande sorgono spontanee. Cioè, se la cosa è così nota, serviva Corona per farla uscire? Ma soprattutto, quanta gente è davvero coinvolta in questa questione? Quanti calciatori sono davvero coinvolti? Quanto questa abitudine avrà effettivamente condizionato l'esito di certe partite? E qualora dovesse essere accertato che qualche illecito c'è stato, che cosa potrebbe accadere? A me sta roba mi devasta, sta prospettiva. Perché poi, io qua faccio un appello a tutti i tifosi, io non mi metterei a sfotte, raga. Chiunque sia, chiunque sia la tifoseria che si sente adesso in una botta di ferro, aspettate a esultare, eh. Se leggete il nome della vostra squadra più antipatica. Io aspetterei, ragazzi, perché qui rischiamo a nascere mezzo tutti. Ora, speriamo che la cosa sia molto più circoscritta di quanto possa sembrare. Speriamo che non vengano accertate delle influenze su certe partite. Perché se dovesse venire fuori che effettivamente c'è un giro di partite alterate, che Dio ci aiuti. Che Dio ci aiuti a tutti quanti, perché lì poi ci va di mezzo il campionato tutto, non la singola squadra. Certo è però, che porca miseria, no? A me mi viene da dire solo porca miseria. Ora, io in questi casi noto una tale confusione, un tale caos, che si dice la qualunque e credo che bisognerebbe sospendere qualsiasi riflessione fin quando non si arriva alla verità, fin quando non si conoscono poi i fatti, fin quando non si arriva a capire effettivamente cosa è successo. Però se qualcuno ha commesso degli illeciti, io prima di tutto mi occuperei del individuare se di illeciti si tratta, in che misura, con quali effetti. Poi dopo aver opportunamente punito chi di dovere, poi pensiamo all'occuparci della componente emotiva. Però ragazzi, davvero, cioè adesso, cioè trasformare questa cosa in altro mi sembrerebbe, è chiaro che chi finisce nel giro della ludopatia ha un problema. E ripeto, è un tema che conosco, fin troppo bene purtroppo. Però, cioè andiamo per gradi, andiamo per logica. Credo che sia importante andare per logica, perché è un argomento sicuramente non semplice, di cui magari potremo anche parlare. Ripeto, io anni fa ci feci un video su questa storia per raccontare quello che mi è successo, però eventualmente ne possiamo riparlare, se volete. Fermo restando che però, nel senso, nel caso specifico cambia poco. E' una questione talmente grossa, talmente preoccupante per il sistema calcio, che mi fa un po' tremare, vi dico la verità. Comunque, avremo modo di riparlarne, adesso era giusto per introdurre l'argomento e eventualmente iniziare a seguirlo, con la curiosità del caso. Ma, ripeto, anche lì, non la metterei neanche sul piano del Ah, noi sempre, sempre noi italiani, se famo riconoscere. E' una cosa molto diffusa, eh. Non è che riguarda solo l'Italia, non è che riguarda solo la Serie A, è un problema che riguarda tutti. Io piuttosto, in conclusione, vorrei metterla su un certo piano. Se la ludopatia è effettivamente il problema, perché lo è, perché lo è, forse, forse, iniziare a concepire un po' il sistema calcio in maniera diversa, potrebbe essere un inizio. Perché a me sentì certe figure di spicco parlare di, ah, questa ipocrisia di fondo, del poveri ragazzi vittime della ludopatia, quando siamo bombardati dalla mattina alla sera di pubblicità. In tutti i programmi sportivi te raccontano le quote, e la quota qui, e la quota là. E influencer di ogni tipo, colore, altezza, maniera, origine, eccetera, che ti spingono scommesse. Casino, gratta e vinci. Cioè, damose tutti una regolata. Perché è inutile fare il momento pietà verso quelle stesse persone di cui normalmente ci se ne sbatte, perché poi diventa ridicolo. Io per quello che mi innervosisco quando poi sento fare i discorsi del poverini, perché il poverini, bisognerebbe pensarci prima, il poverini bisognerebbe pensarci quando il problema si inizia a creare. Il poverini si potrebbe, in qualche modo, disinnescare, evitando di bombardare giovani e giovanissimi con scommetti, 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 per poi chiudere col poverini alla fine. Perché se tu fai il lavaggio del cervello alle persone, poi è normale che qualcosa accade. E se qualcuno ha dei vuoti da riempire emotivamente parlando, è probabile che finisca a scommetto, come è successo a me. Quindi, ragazzi, il discorso è molto più ampio, molto più serio di quanto non lo si voglia far apparire, di quanto possa sembrare, dell'ironia che lo caratterizza e che lo accompagna inevitabilmente. Qualche battuta l'abbiamo fatta tutti questi giorni riguardo a sta storia. Però, ripeto, un conto è l'ironia, ma poi è un tema molto più serio di quanto a volte si vuole raccontare. E magari potrebbe essere veramente una bella occasione per parlarne un pochino seriamente. Comunque, ragazzi, io per adesso vi saluto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Qualche impressione, qualche idea, qualche pensiero a riguardo e ne riparleremo. Effettivamente sì, è un tema che voglio affrontare escludendo il discorso calcio, proprio parlando dell'argomento. Sono una persona un po' diversa rispetto a quando feci quel video anni fa, per cui magari potrei anche avere qualche riflessione in più. Specialmente in un contesto che si è fatto molto più, molto più delicato in questi anni, rispetto a quando ne parlavi la prima volta, perché effettivamente adesso, ragazzi, dove ci si gira, ci si gira. C'è qualcuno che ti dice vai a scommettere, fai questo, la scommessina, e te do le quote, e te do la cosa, la scommessa sicura. Bisognerebbe un attimino ridimensionare il fenomeno. Ma comunque, ragazzi, niente, sempre forza Lassio che male non fa, e noi ci vediamo alla prossima.